Arriva poi Nicco, Iocolano, evacuo, evacuo per Nicco, Nicco viene fermato al momento decisivo, evacuo! A rimorchio, il piattone ha... In realtà colpisce in avanti, ossia l'indietro visto che era girato verso la propria porta, Gonzales diceva il contropiede dell'Alessandria, Gonzales la palla ceduta a Nicco, Nicco entra in area, Nicco a tu per tu col portiere, chiude troppo il sinistro e non serve un compagno. Nonostante sia rimasto a terra feola, Barlocco, Barlocco, zona tiro per Barlocco, la palla invece per Boccalone, in qualche modo Boccalone! Murato però da Ricci, la palla ancora buona, Barlocco! Il diagonale fuori di... Vediamo se stavolta la soluzione dell'Argentino di Tandil sarà diretta, si, ignora Iocolano, va al traversone, anzi quasi al tiro!